L'elaborato collare di pizzo, i polsini, i bottoni di perle e i ricami dorati, il tutto sottolineato da uno sguardo fiero, rivelano l'importanza e l'influenza del personaggio raffigurato. Il busto di Apollo, la carabina e la volpe morta comunicano invece il livello culturale e le occupazioni del gentiluomo. Endymion Porter, cameriere personale di Carlo I d'Inghilterra, raffigura qui tutta l'eleganza della corte inglese negli anni precedenti la guerra civile, all'apice della sua carriera. Dobson era considerato il maggiore ritrattista inglese. Il suo contemporaneo, Obrey, lo descrisse come il più eccellente pittore che l'Inghilterra avesse mai avuto. Il suo stile era rigoroso e con uno spiccato carattere inglese. L'abilità di Dobson nel restituire sulla tela il fasto dei tessuti più elaborati è un segno distintivo del suo stile. Si dice che il suo tenore di vita fosse non ineccepibile e irregolare. Imprigionato per debiti, morì subito dopo essere... ... ... ... ...